sono appena partito sono già stanco volevo fare una dichiarazione di intenti per questo viaggio e volevo dire che io voglio documentare questo viaggio perché vorrei lasciare una traccia di questa piccola esperienza come se la dovessi lasciare al me stesso di 80 anni al quale io dico Umberto Ottantenne questo è quello che è successo nell'agosto del 2021 questa breve esperienza che hai fatto Tori guardatela fatti venire in mente due ricordi e stai bene e questo significa anche non cercare di di millantare, di vantarmi, di aver fatto cose straordinarie o così di cercare di gettare fumo negli occhi perché quando racconti qualcosa spesso cerchi di impressionare il tuo interlocutore per vari motivi solo che io non posso impressionare me stesso di 80 anni perché augurandomi che non abbia l'alzheimer a 80 anni, spero di no, io mi ricordo di com'ero quindi lui mi direbbe ciccio inutile cosa che mi dici che mi dici ste balle che provi a fare il figo io so come eri so cosa è successo e quindi vorrei documentare nel modo più sincero possibile e quindi niente questo e quindi Grazie a tutti.